Se questo Prosecco in tutto il suo insieme è diventato un fenomeno mondiale e se Conegliano Valdobbiadene ne porta la bandiera alta in tutto il mondo, è merito della famiglia Carpenet, i primi, ricordiamolo, che hanno scritto Prosecco su un'etichetta. Parte da qui l'omaggio del mondo Prosecco ad Etile Carpenet, scomparso la notte scorsa all'età di 80 anni. Ha rappresentato la quarta generazione della famiglia che con Cerletti ha fondato la scuola enologica di Conegliano. Etile lascia un'eredità importante soprattutto per i nostri studenti e per le nostre studentesse e lo ha fatto in tutti questi anni con erogazione di borse di studio su progetti e tesi soprattutto dei ragazzi del sesto anno e con la consegna al meritevole di ogni anno della medaglia d'oro Carpenet. Ha condotto l'azienda di famiglia al traguardo dei 150 anni di attività per poi ultimamente lasciare il timone alla figlia Rosanna. Sono tanti gli incarichi ricoperti dal dottore Etile, come lo chiamavano tutti i collaboratori, all'esterno dell'azienda. Tra questi consigliere del Consorzio del Prosecco Conegliano Valdo Biadene nella prima presidenza a Dami. La signorilità, la gestione del tempo e l'attaccamento a questa denominazione per cui lui ha combattuto tutta la sua carriera lavorativa non può che lasciarmi un ricordo incredibilmente positivo. Tante le testimonianze di cordoglio giunte alla famiglia a partire dal presidente della regione Luca Zaia che ha sottolineato il DNA Veneto di Etile Carpenet, ovvero spirito di iniziativa, dedizione, idee e passione per il Prosecco che sono stati d'esempio per generazioni di produttori. Due le grandi passioni del dottore Etile, il Prosecco con la sua azienda e il mare con un bialbero ormeggiato a Porto Santa Margherita dove si rifugiava ogni fine settimana. Dico, dottore Etile, i consigli del Consorzio li facciamo di venerdì sera alle 18, signor Adami, io il venerdì sera alle 18 sono già sulla mia barca e quando arrivo lì al Porto tutti coloro che hanno le barche in fianco vengono tutti da me perché io ho il Prosecco. I funerali si terranno sabato alle 10 nella chiesa coneglianese dei Santi Martino Rosa e l'ultimo ricordo del dottore Etile, il presidente Adami lo affida proprio alla dicitura del Consorzio. Un giorno mi scappa da buon Valdobiadenese e dire, Prosecco di Valdobiadene e Conegliano, signor Adami in rigoroso ordine alfabetico, Conegliano e Valdobiadene.